Salve a tutti appassionati di fumetti! Oggi il vostro Sebi Tenai è andato in missione segreta insieme a Cico e ha recuperato un po' di fumetti in onore dei miei amici youtubers. Cominciamo dal primo acquisto che ho fatto in fumetteria. Ho preso lo Zagor speciale numero 6 La congiura degli dèi. Questa in onore di Christian. Poi proseguendo ho preso, vediamo se riesco, ecco qua con una mano sola a farveli vedere. Andiamo in piano piano. Allora, La mente assassina numero 708. Lebbano e Lavorio numero 709. E La città della speranza numero 710. Questa in onore di Roberto che me li ha caldamente consigliati. Poi oggi parlando con Andrea è uscita fuori che c'era questa vecchia trilogia sul barone Racosi. Che io avevo il numero uno, ho recuperato il numero due di questa saga che è in cerca di Racosi, il numero 668. Gli ussari della morte, dove si conclude il numero 669. Ed infine perché so che mi sta aspettando al barco. Eh sì, Gennaro. Gennaro, ho preso qualcosa anche per te. Lobo!